Da dove derivano le chiavi musicali? I segni che rappresentano le chiavi musicali sono una progressiva alterazione grafica delle lettere gothiche. Ad esempio la chiave di DO deriva dalla modificazione della lettera C che indicava la nota DO. La chiave FA deriva da un'alterazione del simbolo che rappresentava la nota FA. I simboli che abbiamo adesso derivano da una progressiva alterazione grafica delle lettere gotiche con cui si rappresentavano le note. Abbiamo la chiave di SOL, la chiave di DO, la chiave di FA che sono un'alterazione, una modificazione graduale delle lettere gotiche con cui si rappresentavano le note SOL, DO e FA. Ciao ciao, al prossimo video! Ciao ciao! Ciao! Ciao!